Le autostrade italiane fanno schifo, chi la ministra fa schifo, non è possibile avere code, ti fanno uscire dall'autostrada, ti fanno rientrare, trattano la gente come degli stracci. Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dobbiamo chiedergli danni, ma non si può, ma per rispetto della gente, ma è tutta l'estate che è così, tutti i blocchi, non vedi nessuno di loro che lavora, ma dove sono? La cosa incredibile è che non c'è un operaio che lavora, non c'è un'impresa che lavora, ti fanno passare da una corsia all'altra, ti bloccano, però ti aspetti che qualcuno faccia qualcosa, niente, non fanno assolutamente nulla, non c'è nessuno. Poi ti scrivono coda di 5 km per lavoro in corso, lavoro in corso non ce n'è, non c'è un operaio, non abbiamo visto operai in 200 km, è veramente una presa per il culo. Poi ti scrivono coda di 5 km pernò, non c'è nessuno. Grazie a tutti